Pantaloni consumati e trasandati stanno diventando un crescente spreco di denaro? I pantaloni Flexi Tog System sono dotati di risvolti, il che significa che non c'è bisogno della cerniera sulla gamba, che si rompe facilmente. I pantaloni non strusciano per terra e non si impigliano. Questo non solo risolve i problemi di salute e sicurezza, ma ha anche un aspetto più elegante, aumenta il comfort e trattiene il calore.